Mi chiamo Omar, ho 20 anni, ho frequentato in Galdus il corso IFTS Amministrazione di Impresa in Apprendistato. Ho iniziato il corso e fin da subito mi hanno proposto un contratto di Apprendistato, che è un contratto di lavoro retribuito. Mi ha permesso di formarmi in azienda con propri esimisti del settore, alternando la formazione in azienda alla formazione in aula. Durante le ore di formazione in aula, invece, ho approfondito gli aspetti di contabilità generali, gli aspetti di controllo di gestione e gli aspetti tributali e fiscali. Il valore aggiunto nel frequentare il corso IFTS in Apprendistato è quello di poter far sin da subito un'esperienza concreta in azienda, facilitando l'ingresso nel mondo del lavoro. Alla fine del corso IFTS l'azienda mi ha rinnovato il mio contratto di Apprendistato e attualmente lavoro con loro. Formazione, confronto con professionisti del settore, ingresso nel mondo del lavoro.